Musica Riapre il Museo Nazionale Archeologico, sito a Sarlo. L'apertura prevede visite guidate dalle 9 del mattino alle 19 di sera, di tutti i giorni, dal martedì alla domenica. Solo il lunedì è il giorno di chiusura. L'accoglienza è data da professionisti che accompagnano i visitatori a gruppi di sei, quindi nuclei familiari e anche gruppi scolastici, che possono visitare questo museo dove c'è la storia dell'agro nocerino sarnese, non solo di Sarlo, ma è la storia di tutto questo nostro immenso e meraviglioso territorio. Siamo tra i luoghi della cultura della Campania aperti per una visita in sicurezza con tutti i presidi per garantire la distanza fra le persone, l'igienizzazione delle mani e la pulizia regolare di tutte le superfici. È stato duro, molto duro, chiudere le porte, sicuramente, ma necessario per la salute pubblica e per la sicurezza di tutti. Abbiamo, con il portone chiuso, un cuore che è comunque abbattuto forte. Abbiamo tentato di percorrere nuove strade attraverso il web e la creazione di una pagina ufficiale su canale Facebook. Abbiamo cercato di proporre un museo che va a casa. Ora però siamo riaperti, per cui c'è questo contatto molto più ravvicinato con la nostra storia attraverso i reperti che la raccontano. E veramente grazie anche alla tenacia e alla grande apertura della nostra direttrice, Marta Ragozzino, che da poco si è insediata, si è insediata poco prima dell'emerge della chiusura, abbiamo potuto riaprire in sicurezza e in tempi veramente brevi il museo e assicurare così a tutti la fruizione di questo patrimonio. Con le scuole noi abbiamo stabilito un rapporto sempre più fecondo, che va sempre più in crescita, per cui noi ci auguriamo che anche le scolarische, in maniera contingentata, vengano qui a fruire del vostro e del loro patrimonio.